Le iscrizioni da record registrate, la necessità di garantire il giusto distanziamento tra gli studenti, hanno causato un'inevitabile carenza di aule all'Isis Majorana Fascitelli di Isernia, ma il dirigente scolastico Lina Dinezza non ha perso tempo. Sin dal mese di giugno, d'intesa con il presidente della provincia Alfredo Ricci, con il sindaco Giacomo D'Apollonio e con il responsabile dell'ufficio scolastico regionale, Anna Paola Sabatini, si è messa al lavoro per avviare l'anno scolastico in tutta tranquillità e nel pieno rispetto delle disposizioni per prevenire eventuali contagi. Siamo riusciti a recuperare gli spazi sottostanti la palestra del liceo classico, quelli che un tempo erano occupati dalla Giovanni XXIII, e abbiamo realizzato tre aule, tra l'altro di grosse dimensioni, quindi potranno ospitare i nostri studenti. Ulteriori spazi sono stati recuperati sempre nella sede del Fascitelli, abbattendo tramezzi e dei muri divisori per realizzare aule di quadratura maggiore. Altro aspetto importante è quello appunto della sicurezza, quindi le scuole sono ormai un cantiere aperto. Ci stiamo preoccupando di posizionare banchi, di sporre gel igienizzanti in ogni ambiente. Un'aula Covid, un'aula per l'isolamento, ma l'aspetto sul quale abbiamo investito maggiormente praticamente tutto il finanziamento del decreto rilancio è stato l'acquisto in ogni ambiente scolastico, in ogni aula speciale, di dispositivi per la purificazione e la decontaminazione dell'aria, con il duplice obiettivo di sanificare l'aria e indirettamente le superfici a contatto. Non meno importante l'aspetto organizzativo, per ridurre al minimo i contatti tra gli studenti si è pensato di scaglionare gli ingressi, previsti anche degli incontri informativi rivolti al personale, agli studenti e alle famiglie. Abbiamo diversificato, scaglionato gli ingressi. Alcune classi a turno entreranno alle 8.15, altre alle 9.10 e così l'uscita. L'uscita alle 12.50 per alcune classi e le altre invece alle 13.40 e alle 13.45, in modo da garantire un flusso regolare e non sovraffollato. Ed infine, e non meno importante, azioni formative. In realtà una formazione, informazione e sensibilizzazione, non solo per il personale docente e non docente, ma anche per gli studenti e per le famiglie, azioni che partirà dalla prossima settimana e si snodderà nei primi giorni di attività didattica, perché riteniamo che sia fondamentale una corresponsabilità educativa condivisa e collettiva.